ciao a tutti ragazzi anche oggi approfondiremo gli argomenti degli ami perciò diamo un'occhiata altre due tipologie di ami che sono queste fondamentalmente il famoso amo limerick che è questo poi ne parleremo dopo e il re penso che tutti lo abbiamo in borsa per un incassone trova per la pesca medio leggera che il famigerato amo cristal che è questo qua ora analizzeremo molto dopo il video che seguirà appunto le varie differenze e le proprie caratteristiche perché come sempre non è sul come fatto ma sul perché utilizzarlo più o meno determinati tipi di pesca per determinati soprattutto tipi di pesce come sempre buon video bene ragazzi adesso come detto diamo un'occhiata a queste due tipologie di ami che abbiamo parlato appunto prima io partirei subito con il primo che è la tipologia di amo limerick l'amo limerick è un amo che è questo fondamentalmente un amo a gambo corto un amo molto diciamo così o abbastanza perlomeno robusto a una curvatura non perfettamente rotonda come magari la berdin che non abbiamo parlato ma un amo a gambo lungo con poi una curvatura completamente circolare diciamo così mentre questa è una parabola sempre rotonda e di ampia dimensione come vedete per la dimensione appunto dell'amo è un amo che fa della robustezza tutto sommato il suo punto di forza tant'è vero che nelle misure più piccole più diciamo grandi perciò nelle misure del 4 2 1 0 viene anche molto usato per la pesca con sarde seppie insomma per pesche anche importanti diciamo così mentre comunque nella pesca soprattutto nelle dimensioni più piccole perciò ami del 6 8 10 così anche nel surf casting viene utilizzato anche per la pesca di galla oppure per le sue caratteristiche di robustezza si può anche utilizzare per la pesca lorata perciò innesco di cozza innesco di granchio innesco di bibi è un amo insomma che magari molti per nome non lo conoscano ma è un amo abbastanza diffuso è nel nella nostra borsa un cassone l'altro amo invece che spopola fondamentalmente in queste borse in questi cassoni e che tutti penso insomma non male ce l'abbiamo avuto una volta nella vita almeno a che fare è il famoso amo crystal che è questo l'amo crystal è un amo di solito gambo medio lungo molto fine di di fusto di gambo è un amo che è caratterizzato e qui si vede bene da una curvatura particolare perciò una curvatura che fa mano a mano a mano a stringersi fino a questo punto è è una parte rettilinea dove poi è messo l'ardiglione appunto la nostra punta cosa acquistamo che lo rende così diciamo così famoso è è un amo leggero è un amo molto performante è un amo che grazie appunto a un filo così fine riesce ad avere un alto coefficiente di penetrazione in punta è un amo indicato soprattutto per piccoli vermi o vermi leggeri perciò arenicola piccoli coreani tremoline insomma tutte quelle che esche che sono abbastanza leggere come vermi tant'è vero che difficilmente utilizzeremo un crystal nelle misure più grandi perciò difficilmente andremo un crystal del 2 o del 4 di solito le misure più usate qui sono 6 8 e 10 e soprattutto è usato anche molto nella pesca galleggiante perché questo è anche l'amo diciamo così più usato per la pesca col bigattino perciò nelle misure poi 12 14 16 e via dicendo fino alle più piccole è un amo appunto che grazie alle sue doti di leggerezza si presta bene soprattutto anche alla pesca di galla e soprattutto è un amo molto adatto e performante per i nostri gruffolatori perciò le nostre amiche mormore diciamo sono le prede principali fondamentalmente di questo amo che appunto grazie alla leggerezza e alla grande penetrazione ne fa un po' forse l'amo più conosciuto e più utilizzato da tutti noi bene questi sono un po le tipologie di amiche abbiamo analizzato oggi soprattutto come dico sempre non tanto per capire il nome e la tipologia di amo ma soprattutto per capire il perché utilizziamo una tipologia di amo rispetto a un'altra è perché quali sono le caratteristiche fondamentalmente che lo contraddistinguano e così in modo da farci scegliere l'amo migliore per il tipo di pesca o il pesce che vogliamo insediare magari in un determinato momento come sempre vi saluto ragazzi ci vediamo alla prossima per questi video ciao